La famiglia non è una selva? No Pagli 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 Julian, dove fai ? Il piano Pagli Pagli L'Idiocchio è più grande Ma che Il Giuliano è 16 anni Valentina è sempre qui da Roma, ok? Papa! Ma cosa faccio? Con la Schaufel? Con la Schaufel? Con la Schaufel? Sì, Valentina. Sì, Valentina. Sì, guarda. Sì, guarda. Sì, guarda. Valentina. Sì, guarda. Sì, guarda. Oh, Valentina. Da du, du, du deines Erzend talvez。 Papa? Ja, super machst du das. Mit dem Stroh, mit der Schaufel. Soooo, aufladen. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì.